Come mi aspetto di vivere questo Sanremo? Beh, con molta energia, con la voglia di raccontare un altro pezzo della mia storia, di quello che sto vivendo. Ti amo non lo so dire, parte fondamentalmente dal parlare di quello che è il rapporto mio con persone che mi circondano. Spero che le persone ci si ritrovino perché forse tante volte è un po' complesso farsi capire, le parole diventano dei proiettili e qualche volta è veramente difficile. Con la speranza che però poi saremo capaci un giorno di poter dire ti amo.